Ciao ragazzi, Bucol, Bucol ve lo dico qua, dal giardino, oggi è una bella giornata d'estate, una giornata di luglio, una bellissima giornata di luglio, quindi faccio un bel Bucol dal giardino. Prima di iniziare però, vi volevo invitare ad andare a trovare la mia amica Simona Candido, un bacione Simona, lei è una persona straordinaria, una mia grande amica è una grande artista, che ha creato un personaggio al quale io voglio bene, ormai mi sono affezionatissimo alla sua Peppina, poi c'è anche pure Peppino, c'è tutto un mondo, no? Io ormai aspetto, glielo dicevo a Simona, i suoi buongiorno, insomma ogni giorno su Facebook, vi lascio poi nell'infobox ovviamente i riferimenti a Instagram, a Facebook, insomma andate a trovarla, quindi ogni giorno io mi vedo lì le storie, le avventure di questa Peppina e mi appassiona, insomma un po' come si faceva un tempo con i giornali, insomma quando uscivano in edicola ogni settimana, qui è un appuntamento quotidiano con la Peppina, insomma andate ad avere anche voi questo appuntamento con lei, poi ci sono un sacco di cose che fa, vestiti splendidi, fa illustratori, azioni, ci sono gioielli, c'è un sacco di roba, andate a trovarla e salutatela da parte mia. Inizio, book haul, siamo andati con Stefania a Mercatopoli, finalmente dopo un sacco di tempo, e vi faccio vedere gli acquisti. Allora, primo libro, Thomas Green, lontano da niente, di Eito Frassinelli, di questo autore avevo letto un libro splendido, che si intitolava Invidiosa Luna, questo è praticamente nuovo, c'è giusto una scrittarella qua, l'avevo pagato 1,25 euro, eccolo qua, un autore che mi piace un sacco, l'ho letto appunto quel libro lì, vi faccio vedere un po' un misto, è DVD o un po' di roba, sia DVD che libri, facciamo prima... dai, DVD vi rilascio alla fine, dai. Poi, Il risveglio di Galeno, allora, è di Pierdomenico Baccalario, edito di Agostini, d'accordo, però è un libro splendido, di cui non avevo mai sentito niente, ed è fatto così, con illustrazioni, i capitoli sono fatti in questo modo, da come ho capito è una duologia, se vi faccio vedere qualche altra illustrazione, eccolo qua, è una duologia, la parte, diciamo, scritta è la classica carta tradizionale, insomma, della solita consistenza, invece la parte illustrata è carta patinata, vedete, lucida, eccolo qua, quindi, boh, mi ha ispirato un sacco, d'accordo che è un italiano, però 1,60 euro l'ho pagato, splendida la copertina con questa sovracoperta trasparente, e parla di questo mondo un po' tipo di robot creati dal nonno di questo protagonista, il quale protagonista deve riuscire a trovare il mondo dove il nonno ha nascosto questo mondo, perché secondo lui il mondo umano non era ancora pronto per questa innovazione. Poi di Frank Schatzing, Schatzing, dall'autore del quinto giorno, ecco, Il diavolo nella cattedrale, a questo, per questo chiedo un aiuto, avevo chiesto un aiuto a Sara, ma non mi ha saputo dare una risposta, un bacio Sara, io sapevo che lui ha scritto la cattedrale del, aspettate, questo cos'è? Il diavolo nella cattedrale? La cattedrale del male, credo si chiamasse, può essere? Insomma, ditemi se questo è un sequel, se è un... insomma, fatemi sapere qualcosa di sto libro, insomma, io l'ho pagato 1 euro, intanto l'ho comprato, no, 1 euro, quant'è che l'ho pagato? 1 euro e 25, quindi insomma, me lo sono comprato, poi fatemi sapere voi di cosa devo aspettarvi, se è una trilogia, una duologia, una saga, non lo so. Poi ho preso un regalo per una mia amica, ve lo faccio giusto vedere, l'apprendista di Venezia, un bacio angelo, ci vediamo tra poco, insomma, quindi ho preso un pensiero. Poi, La metà oscura di Stephen King, questo l'ho pagato 1 euro, eccolo qua, ciao cucciolina, 1 euro e, vabbè, adesso sto leggendo Kerry, eccolo qua, mi sta piacendo, appena iniziato, e questo appunto è il, La metà oscura, pagato 1 euro e che facevo, lo lasciavo là, ma la sia mai. Per l'appunto, parlando di cucciolina, dove vai? Guarda come se ne va. L'ho preso questo, questo, che si chiama, si intitola appunto La mossa della regina, dai, vieni a salutare, La mossa della regina, edito da Elizabeth Fremantle, Fremantle, come lo dici Fremantle? Fremantle, edito Mondadori, La copertina mi ricorda, non so se sia la stessa autrice, no, il primo romanzo di una trilogia, lo sapevi? No. Dei Tudor? Vabbè, insomma, se è bello, te ne leggi altri due. La copertina mi ricordava il, com'è che si chiamava, il... Ciao. Eccola qua. Tic. Mi ricordava la, com'è che si chiama quella là? Non mi viene il titolo. Il miniaturista, il miniaturista, solo che la copertina è blu, vabbè, insomma, questo. Poi, regalami le stelle. Ce l'inizio adesso, perché quello che mi aveva regalato Vale l'ho finito, come si chiamava? Ah, sì. Annus Mirabilis. Esatto. Bellissimo. Bello, sì, l'hai letto, ti è piaciuto il finale, ti aveva lasciato lì un pochino, guarda cosa è che c'è dentro. Questo l'ho pagato 1,50 euro, che era ad aprile, quindi a metà prezzo. Jeffrey Sh... Tipakoff. Con i miniaturismi oggi. Parmaggio, poi io le preparo i video, capito? Quindi, è un romanzo magico e toccante, perfetto per il grande schermo, una storia eccezionale che ti resta nel cuore. Eccolo qua. E niente, vediamo cosa è dito Sperling. Poi vi faccio vedere brevemente i DVD e poi ce ne andiamo, insomma, a fare roba nostra. Hitman, io ho amato il videogioco di Hitman, quindi insomma, ho visto il film a 1,50 euro, che era dal 3 gennaio, quindi andava a metà prezzo, preso questo. Poi, Abduction, riprenditi la tua vita con Taylor Launter, questo si chiama, quello di Twilight, però il lupo, non il vampiro. Un film che io avevo visto al cinema appena uscito, un film strepitoso, bellissimo, bello, 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 bello. Pagato, vedete, 1,50 euro. Tutta la roba che vedete è 23 euro, ma ti ho tirato su anche la cassiera di Mercatopoli. Poi, ah beh, X-Men le origini Wolverine, io amo X-Men, e anche te piace un sacco X-Men. Tanto guardatevi se non l'avete visto. Che è l'ultimo, quello che stavo per... L'ultimo è un po', ecco, insomma, è un po' un'altra cosa, ecco. Questo è il classico X-Men, pagato 1,50 euro. Poi, Cenerentola, qua, mi hanno detto tutti che sono lì a Stefania. Ah, sì, Cinderella, sì, Cinderella, insomma, ricorda forse qua. Però, in effetti, guardando da vicino, no. Però da lontano qualcosa... Vabbè, insomma, Cinderella, eccolo qua. Poi questo vi ricordo un periodo nostro all'inizio della nostra storia, perché stavamo insieme da pochi mesi, perché c'era... Eh, che si erano i totem grandissimi. Ultimo, un'attrice, insomma, un'attrice che mi piace un sacco, che è Julianne Moore, scelta l'identità paranormali, e questo l'ho pagato 1,50 euro. La signora sa che brutto. E questo penso, allora, lei è una psichiatra forense che scopre che un suo paziente è affetto da problemi di personalità multiple. Il fatto inquietante è che tutte le personalità dell'uomo sembrano essere state vittime di bruttali assassini. Questo te lo consiglio, Angela Cicogna. Fenomeno soprannaturale, allucinazioni. Cara, deve scoprire velocemente prima che il suo tempo finisca. e mi ispira un sacco qua dietro, che si tagliuzzano tutti, che si fanno del male. Bene, vado. Oh, vi ricordo ancora una volta, questo non è un tatuaggio vero, fai vedere il tuo. Ieri alla notte bianca qua a Gaggiano. Poi la vicina si vedono meglio. Su, il teschietto, il mio è Batman. Il pepistrello di Batman. In viadito, già. In viadito. Cioè, mi hanno detto, stacci attento un attimo, prima che asciughi tutto, io subito ho un manuolo dentro la tasca, c'è una sbavatona. Però loro sono ragazzi simpatici, insomma, lei è proprio grezzone, subito è un'amicizia bella, zia come te buto, ma sì, ma sì. Quindi io c'ho Batman, lei c'è il teschietto. Bene, ragazzi, buona domenica. Noi ci andiamo a fare roba nostra, qualcosa faremo, ci invitiamo alla giornata. Voi, mi raccomando, state bene e ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.